Mi piace il fatto che tutti si sono accorti che questa Montoglio deve rinascere, perché è l'obiettivo che mi prefiggo e per il quale mi sono candidato a sindaco. Il mio paese ha bisogno di soprattutto energie e idee nuove e io lo faccio. Parto innanzitutto da una cosa scontata che ormai sono nove anni che dorme e quindi è la ricostruzione ed è un capitolo scontato, bisogna solo anticiparla il più possibile. Io penso di prima possibile di attivare questo discorso, ma nel frattempo dobbiamo pensare oltre perché se ci limitiamo soltanto a consolidare e a rimettere a posto le mura può darsi che le ritroveremo vuote e quindi a questo punto dobbiamo intervenire innanzitutto con un progetto che già sto portando avanti e mi sono sentito con le persone giuste. Per quanto riguarda affiancare questo progetto di consolidamento, un progetto di, diciamo, dobbiamo fare un progetto di, mi sono perso, e quindi dobbiamo affiancarci un progetto necessariamente di, oltre al decoro urbano che verrà dopo, di impatto zero, quindi dobbiamo pensare all'ambiente, quindi un progetto che deve far diventare il nostro Colle e le Frazioni un'isola felice dal punto di vista ambientale che diventerà unico in Abruzzo.